la radio a pezzi per cento dei film visti al cinema negli ultimi 20 anni che hanno vinto l'oscar non sono né divertenti e nemmeno campioni di incassi al botteghino e spesso per sopportarli tocca vederli nelle serate noiose con l'occasione dello sconto dei multisala allora perché non rendere la visione più figa con un bel gruppo di amici organizzando un party oscar part attack chiama anche tu i tuoi migliori amici turbinosi e preparati al meglio per fare tanto hollywood sgasando con le migliori bibite gasante pop corn glassati al gusto di formaggio cheddar mentre per le amiche vegane crostini con crema di fagioli neri messicani e taccole fatto leggerino ora non resta che riempire la sala e fin dai titoli create il sonoro e il doppiaggio che più si adige ai vostri gusti divertitevi col vero cinema d'autore premiato party oscar part attack grazie è tutto un profi profi la radio a pezzi